Una stanza del buco all'interno nel perimetro del vecchio ospedale civile di Pescara in via Polini a due passi dalla sede della direzione generale. Questa è la scoperta che ha fatto lei consigliere Pettinari. Questa mattina ha mostrato delle foto, anche un video di una situazione sicuramente non edificante. Nell'esercizio delle mie funzioni di sindacato ispettivo mi sono imbattuto in uno dei miei ultimi sopralluoghi in questa situazione terrificante, allarmante. È un'area aperta al pubblico, è un'area dove abbiamo trovato ricette rosse con prescrizioni, con tanto di timbro del medico, firma, dicitura della prestazione prescritta e nome del paziente abbandonate. Lasciate così in abbandono una montagna di ricette. Abbiamo trovato siringhe usate, sporche di sangue, fazzoletti sporchi di sangue, lacci emostatici, tutto così lasciato alla luce del sole. Abbiamo trovato delle biciclette abbandonate, abbiamo trovato tante altre situazioni terrificanti. Non è possibile che in un ospedale civile, sotto tra l'altro gli occhi vigili di telecamere installate con tanto di dicitura zona videosorvegliata, si possa consumare una cosa del genere. È anche il fenomeno sociale allarmante perché l'ospedale dovrebbe prevenire e curare le tossicodipendenze e troviamo una situazione del genere. A pochi metri dalla direzione generale. Per questo io ho chiesto oggi le dimissioni del direttore generale di fronte a questo. E l'intervento dell'organo regionale che l'ha nominato. Perché non si può andare avanti. Ho chiesto l'intervento dei NAS pubblicamente, lo sto chiedendo, perché è una situazione che va bonificata e va immediatamente ristrutturato quel palazzo. Servono palazzi ristrutturati all'interno dell'AS. Poi pensano ad acquistare palazzi esterni spendendo 3 milioni di euro quando abbiamo edifici di proprietà. Tutto questo va fatto, va fatto in tempi brevi, ma non è più concepibile avere delle situazioni del genere all'interno dell'ASI Pescara.